Camminando s'apre il cammino. È un itinerario di fratellanza, fede e carità, quello compiuto nella peregrinazio della icona di Maria, madre della speranza e delle confraternite. Un cammino che coinvolge con Greg, confraternite e P. Sodalizzi verso il giubileo del 2025. Sull'isola di Ischia la sacra icona è sbarcata il 19 luglio ed ha visitato finora otto realtà tra l'Acquameno, Serrara Fontana, Ischia Ponte, Testaccio e Casa Micciola. In queste ore l'immagine della Madonna è stata trasferita nella chiesa di Santa Maria del Buon Consiglio, accolta dal parroco Don Gino Balirano e dal governatore Pina Monti, con la celebrazione di una santa messa solenne. Un vero e proprio pellegrinaggio che genera ovviamente un incontro, un incontro piacevole, quello con l'icona della Madonna della speranza e delle confraternite. Don Gino, allora un bel giro che adesso in queste ore tocca a Casa Micciola da qualche giorno per poi passare a panza. È il vero significato di questo passaggio? Sì, proprio nella messa questa sera ci siamo un po' anche interrogati sul significato. Oltre ad essere certamente, come dire, un'opportunità di preghiera, di celebrazioni, eccetera, io penso che accogliere Maria, accogliere la Madonna, un'immagine della Madonna, significa in primo luogo cercare di imitare Maria. E quindi ci siamo detti che forse le nostre comunità devono essere sempre più come Maria nel mondo di oggi, perché Maria è, Sant'Agostino la chiama la forma dei, la forma di Dio. Ecco lei che veramente ci aiuta a trasformare le nostre comunità così come desiderava Gesù. Comunità, ecco ma volendo descrivere l'icona, ecco vediamo questa messa di gente, un crocifisso, degli incappucciati, un sacerdote, sovrastati poi da questa figura della Madonna incoronata, addirittura un bambino, insomma c'è un po' tutta l'umanità. Sì, c'è tutta l'umanità ed è un pellegrinaggio, quindi vuol dire che la nostra vita è un pellegrinaggio. Ovviamente siamo dietro alla sequela di Cristo, quindi seguiamo il Cristo e poi c'è la Madonna, la Madre di Dio che veglia appunto sul nostro cammino e porta un'ancora in mano e l'ancora normalmente è il segno della fede. Quindi ecco lei che in un certo senso ci indica realmente a chi dobbiamo rivolgerci per accrescere la nostra fede. E dopo Casa Micciola, la Sacra Icona della Madonna della Speranza si sposta a panza nella confraternita dell'Annunziata. Chiuderà il suo cammino sull'isola Forio, prima in Santa Maria di Loreto, poi in Santa Maria Visita Poveri il 30 settembre.